buonasera gabriele cante buonasera gianluca drammis buonasera a tutti voi come sempre siamo qui siamo contenti siamo contenti perché appena finita juve fiorentina voi questo video in realtà lo vedrete domani mattina e non vi interesserà nemmeno e quindi non vi interesserà probabilmente soprattutto se non ti fate la juve ma non interessa la juve ha battuto 2 a 0 la fiorentina è volata in finale di coppa italia dove troverà l'inter sì però la vendetta la rivincita l'11 maggio l'11 maggio tutti i tifosi del milano sono invitati a fare juve non è vero scherzo non ci interessa nulla perché noi siamo qui perché dobbiamo mettere in palio un'altra maglietta firmata noi diciamo qual è allora ne asciorinate un paio fulvio colovati ve le faremo vedere anzi faremo un po di titranelli ve le faremo vedere un po su instagram grazie al nostro ricordo qualcosa poco a poco sveleremo due citazioni allora uno grazie ringraziamo perché iniziano a risponderci in parecchi e allora li ringraziamo sia quelli che ci rispondono durante la trasmissione perché stasera anche stasera faremo al cinema con chantelle si gira e poi c'è l'appuntamento allora ricordiamo che è questo qui che stiamo registrando due citazioni due citazioni volanti le indovinate vi arriverà una maglia scoprirete quale è la maglia vince il primo degli iscritti ad aver indovinato tutte e due le citazioni fulvio colovati official iscrivetevi anche alla pagina instagram mettete mi piace fate quello che volete prego chantelle soprattutto adesso cercate di indovinare perché non sono così facili come voi pensate io non sono uno di quelli che dice il principe è meglio del duca e che c'entra niente infatti non lo dico ma il duca è rabbio non si sa l'occhio perché c'è una citazione calcistica non si sa principe e duca bene la seconda chantelle il principe era marchesio il principe è incredibile lei ha paragonato marchesio e rabbio me le sto andando guardi chantelle stanno facendo proprio il contrario sto ripiengendo il principino marchesio seconda citazione allora questa ve la faccio ve la fa ve la faccio un pochino un pochino più difficile il popolo è una bestia il popolo è una bestia varia e grossa che ignora le proprie forze e perché ignora le proprie forze perché i bombassi fanno un incanto che i sensi l'ingrossa io non posso vi spido due volte vi sfida chantelle la sfida di chantelle la maglietta di furio collovati che scoprirete cammin facendo caro mio gabri quale sarà ma scoprirete anche che questo quiz potrebbe anche espandersi ad altro e non solo al cinema vi voglio lasciare con questa gialluca drambis vi lascia con questa anteprima e se ci fosse altro al posto del cinema punto di domanda lo scoprirete solo vivendo come buon battista buon lucio ciao ciao